ho qui il supremo si tira al collo ragazzi davide ancora impegnato nella manutenzione cambiamolo 11 meno 20 fra una decina di minuti incontro davide e damiano i due pro qui in giro stamattina è stato bello conoscervi ciao a tutti come sono in cui ho vaggiato un accident con manubrio e questo telefonino con cui sto riprendendo in bella faccia ora vado incontro sulle strade vediamo cosa mi dicono sono per questo e circa quattro ore e mezzo con una salita ovviamente la salita la faranno con il loro passo ci incontreremo solo dopo la faranno con una salita ovviamente 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 c'è già unicento, c'è già unicento, c'è già unicento sotto il porticato di terra Seconda ora, abbiamo 30 di media e quasi 60 km, ora loro si fanno una salita di 10 minuti piano, però il loro piano per me adesso è forte, soffrirei per stargli dietro e poi continuiamo un'altra ora con un'altra salitella di 20 minuti. Siamo andati più o meno in pianura, per darvi un riferimento di velocità, tra i 35 e i 38 sempre, facile loro davanti che parlavano. Poi ecco, sapendo che c'ero io dietro, in salita non manteniamo la stessa potenza e quindi un attimo rallentavamo per stare insieme. Comunque da allenati, se si è discreti amatori, si sta tranquillamente durante questi allenamenti. La stessa la fanno da solita, lo mangio e mi riposo. Prima tre ore e mezza, come va Davide e Damiano? Tutto ok, abbiamo fatto una salita, Damiano ha forato, però va tutto ok. Ora manca un'ora e mezza, ancora qualche lavoretto e rientriamo. Va bene, tutto ok. Va bene. Ciao. 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 Ciao.